Sono Simona Iannetti Aranna Piozzi, le vincitrici della settima edizione di Imprese in Rosa che storia, il concorso promosso dal Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara. Luciana Ferrone, grandi storie di donne, grandi imprese da premiare ovviamente. Sì, questo è un evento a noi molto caro che si ripete ogni anno qui all'interno della Camera di Commercio. È un nostro modo che abbiamo di far prendere valore alle imprese femminili e devo dire che questo senso di coscienza, questo senso di orientamento, di aiuto, di collaborazione, di istigazione all'imprenditoria sta funzionando, no? A giudicare dei risultati. Abbiamo donne giovanissime e che si sono proposte con idee bellissime e questo testimonia come questo passaggio generazionale sia stato bello, importante, sentito e donne anche mature che hanno sviluppato dei progetti belli che ancora tenacemente portano avanti. Ecco, quindi mi è piaciuto il termine istigazione all'imprenditoria che è quello che fa il Comitato poi. Sì, esatto. Questo nostro Comitato è costituito da donne presenti, da imprenditrici valide che nonostante i loro impegni personali di imprenditoria riescono a coabitare in questi progetti e a far in modo che ci siano delle risorse continuamente per le giovani imprese. Appassionante la storia raccontata dalla vincitrice Simona Iannini che porta avanti la tradizione del merletto con il tombolo mentre Arianna Pozzi, giovanissima diciottenne, si occupa di outfit attraverso un'app e si è collegata da scuola. Durante la cerimonia è stato proiettato il documentario Le donne del fare con le interviste del giornalista Luca Pagliari alle imprenditrici vincitrici delle precedenti edizioni. Grazie.